Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Quando realizzo delle configurazioni, delle build qui sul canale, molti di voi si sono accorti che sullo schermo in basso a destra appare la classica frase che Windows mette quando il software, o almeno il sistema operativo, non è attivato. Quindi manca della licenza per funzionare a dovere. Installare Windows è molto, molto semplice. Basta andare sul sito di Microsoft, scaricare il tool e installarlo ed è gratuito. Una volta installato però senza avere una chiave di Windows, beh ci troveremo con delle limitazioni. Tra queste anche banalmente cambiare lo sfondo del nostro desktop. In più come detto prima appare anche una scritta in basso a destra veramente veramente fastidiosa perché finché rimane sul desktop mentre navighiamo e basta, amen, mentre giochiamo è fastidiosissima, mentre lavoriamo non ne parliamo nemmeno. L'unico modo per togliere tutte queste limitazioni è acquistare in teoria la licenza di Windows ma può costare anche 200 euro e ovviamente per quanto riguarda le configurazioni PC che porto su questo canale farebbero cambiare drasticamente e in maniera negativa il costo finale, il budget necessario per acquistarle. Per fortuna però non è l'unica soluzione possibile, ci viene infatti incontro lo sponsor di oggi ovvero Wookies che mette a disposizione licenze Windows ad un prezzo veramente molto molto interessante e decisamente più basso di quello ufficiale. Ed utilizzando ad esempio il codice sconto GH20 durante la fase d'acquisto, in questo preciso momento una versione di Windows 10 Pro OM vi costerà soltanto 13 euro e 45 centesimi quindi una grandissima offerta ma dopo vi faccio vedere quanto sia semplice acquistarne una e ovviamente anche come attivarla perché è ancora più banale. Vi basterà andare sul sito di Wookies, la prima cosa che vi consiglio vivamente di fare è di iscrivervi, in questo modo terrete traccia di tutte le chiavi che potrete acquistare su questo sito. Fatto questo vi basterà cercare nel motore di ricerca la licenza di Windows 10 Pro. Vi apparirà praticamente immediatamente nella lista e vi basterà accedere alla pagina. Se come vi ho consigliato avrete già fatto l'accesso al sito, vi sarete già registrati, i passi successivi saranno molto molto semplici. Infatti arrivati al carrello potremo andare a inserire il coupon offerto da Wookies proprio per voi ovvero GH20, confermarlo e avrete il vostro sconto. Poi potete procedere tranquillamente col pagamento nel metodo che più preferite e la chiave sarà vostra. In pochi istanti avrete la chiave per attivare il vostro Windows 10 Pro e per farlo è ancora più semplice che acquistare la chiave stessa. Infatti dovrete andare nel pannello di controllo e accedere all'area di sistema e poi ovviamente nel menu di attivazione. In questo caso quindi potremmo semplicemente cliccare su aggiungi una licenza oppure cambia la chiave di licenza qualora voi aveste magari inserito una sbagliata o magari aveste semplicemente cambiato la vostra scheda madre e quindi vi venga richiesta una nuova chiave. E una volta attivata le limitazioni spariranno immediatamente, compresa quella scritta là in basso. La stessa identica procedura la potete fare anche per acquistare le licenze del pacchetto Office di Microsoft, pacchetto che normalmente costa veramente tantissimo. In questo caso grazie allo sconto di cui vi ho parlato prima, quindi col solito codice GH20, potrete portarvi a casa il pacchetto Office Pro 2019 a soli 33,42 euro, quindi un altro prezzo pazzesco. Ma un Wookies non si ferma qui, infatti non ci sono soltanto le licenze di Windows, ma su questo sito potete trovare le chiavi anche per i vostri giochi preferiti, che siano su Steam, Uplay, Origin o anche carte prepagate per il mondo delle console PlayStation e Xbox. Insomma potete liberamente sfogliare l'intero catalogo e trovare il gioco o il software che fa al caso vostro. Vi posso garantire poi la qualità del servizio per il semplice fatto che ho utilizzato Wookies già due volte, infatti ho cambiato la scheda madre sia al mio computer che a quello di Federica e ovviamente abbiamo dovuto attivare nuovamente Windows e se avessimo dovuto pagare 200 euro a testa sarebbe stata una follia. In questo modo con poco più di 26 euro ce la siamo cavata in due. Ho pensato che questo sponsor fosse perfettamente in linea con i nostri interessi, con i vostri interessi e quindi vi ho portato queste dritte perché sinceramente continuate a chiedermelo sotto ai video delle build. Dov'è che posso acquistare Windows? Dov'è che posso acquistare Office? Insomma è un problema noto e meno spendiamo meglio è. Vi ricordo nuovamente per l'ennesima volta che col codice sconto GH20 potete usufruire di uno sconto del 20% su qualsiasi cosa voi vogliate comprare. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione e mi raccomando fatemi sapere se vi è stato utile questo servizio, se avete acquistato e come vi siete trovati. E non rimaneteci male se faccio video sponsor di questo tipo perché mi servono per mandare avanti il canale e portarvi sempre migliori contenuti. E inoltre è un servizio tremendamente utile per tutti noi quindi è un valore aggiunto. Insomma due piccioni con una fava. E per oggi ragazzi ho detto veramente tutto. Come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video. A presto!